Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale di catamodellismo dinamico, io sono Issam e oggi vediamo quella che secondo me è la miglior ricevente ELRS sulla banda 2,4 GHz che esiste fino ad oggi ed è la RP4TD della Radiomaster. In questo video ti spiegherò perché ritengo che questa ricevente sia la migliore sia dal punto di vista ergonomico di utilizzo ma anche di affidabilità. Ma prima vediamo due tipi di riceventi differenti, per esempio questa è una ricevente a basso costo che utilizzo molto spesso, costa pochissimo 10 euro 9 euro prendi una ricevente e devo dire che con la tecnologia ELRS la ritengo molto affidabile, affiderei anche un elicottero molto costoso come questo a una ricevente come questa però c'è un problemino perché questa ricevente come puoi notare ha solo un'antenna quindi non ha la diversità e perciò se sono lontano faccio delle evoluzioni, ci sono un po' di interferenze naturalmente la mia radio aumenterà la potenza ma magari durante una gara 3D avere un pochino di latenza perché ha una sola antenna e quando sarà parallela all'antenna della trasmittente riceverà al 100% di segnale ma quando sarà incrociata alla mia antenna della ricevente riceverà solamente il 2% del segnale che è una cosa normalissima e durando anche per pochi secondi l'evoluzione dell'elicottero questo non lo sentirai neanche ma c'è anche un altro problemino perché tutte le riceventi che ci sono attualmente fino alla data di questo video nel mercato che si colleghino tramite cavetto unico quindi tramite UART, protocollo puoi scegliere il protocollo con ExpressLRS quindi non dico SBUS o altro puoi scegliere di comunicare col flight controller con un altro protocollo ecco tutte queste riceventi accettano un'alimentazione fino a 5 volt qualcuno accetta fino a 6 volt ma nessuno accetta fino a 8 volt perché questo è importante perché per esempio un elicottero del genere ha un ESC con un BEC regolabile si può regolare anche a 5 volt quindi in teoria non avrei problemi con questo ma cambierebbe tantissimo sia la velocità ma anche la forza dei servo che si alimentano con la stessa corrente se aumento a 8,4 volt che è il massimo voltaggio al quale possono funzionare i servo di questo elicottero ma tanti aerei o altri velivoli o veicoli richiedono un voltaggio maggiore che per usare una ricevente del genere dovrai mettere un regolatore di voltaggio prima certamente si può fare la situazione si ingrandisce molto di più con un po' di cavi in giro e anche la possibilità di problemi perché avrai due apparecchi e quindi due possibilità di problemi a questo punto uno direbbe è che ok Issam questa è una ricevente ER8 ma esiste anche la ER6 che è più piccola anche più leggera di questa che prende fino a 8,4 volt non solo ha anche due antenne quindi ha una diversità perciò potrei mettere le due antenne in questa angolazione e risolvo tutti i problemi quindi non solo ovviamente come puoi notare questa è una ricevente PWM quindi abbiamo tutte le uscite PWM che si possono collegare ai servo ma se stai utilizzando un flight controller hai anche qua un'altra uscita UART dove puoi collegarla con un cavetto unico al tuo flight controller che è molto più rapido quindi una comunicazione più rapida rispetto ai PWM non solo più affidabile avrai anche la telemetria non solo una cosa che non è relativa al nostro video di oggi ma qui abbiamo anche un V-BAT un sensore che se si collega alla batteria direttamente ci rimanda indietro il voltaggio eventualmente se il nostro flight controller non è capace di rimandare il voltaggio dell'ESC direttamente con la telemetria con il cavetto unico ma abbiamo un problema ovvero la dimensione di questa ricevente è davvero molto grande se non ne hai proprio bisogno come ho detto all'inizio di questo video esiste questa RP4TD che apriamo subito e vediamo insieme questa bellezza perché non risolve solamente questi problemi dei quali ho parlato ma aggiunge altre cose molto più interessanti la prima cosa che vorrei dirti è che la Radiomaster RP4TD XLRS sulla banda 2,4 GHz accetta da 4,5 V fino addirittura a 12 V quindi se hai un modello che si alimenta o si può alimentare a 12 V e hai più vantaggi ad alimentarlo a 12 V questa è l'unica ricevente che arriva a questo voltaggio senza un regolatore pesa soltanto 1,4 grammi ed è molto piccola certamente non è piccola come questa qui ma comunque come vedi non supera una falangia del mio dito indice come vedi questa ricevente ha due antenne esattamente come questa qui però hanno una particolarità differente perché questa non è una sola ricevente ma ha due oscillatori all'interno quindi come se avesse due riceventi contemporaneamente che ricevono il segnale contemporaneamente quindi possiamo metterle con polarizzazione così così abbiamo sempre un'antenna parallela alla mia antenna della trasmittente ma adesso dirai Issa ma non è la stessa cosa di queste antenne no perché qua abbiamo delle antenne con diversità che lavorano sulla stessa frequenza vi faccio vedere un piccolo diagramma sul sito ExpressLRS questa è una ricevente normale la nostra trasmittente trasmette il segnale la nostra ricevente riceve il segnale se abbiamo una polarizzazione corretta quindi le antenne sono parallele prende il massimo altrimenti se sono incrociate prenderà il minimo qui abbiamo un altro caso che non abbiamo qui sul tavolo ovvero le riceventi con due antenne con diversità quindi la trasmittente trasmette la ricevente riceve lo stesso segnale da entrambe le antenne sulla stessa frequenza e l'amplificatore misura quale antenna ha il voltaggio più alto ha una ricezione migliore e la passa alla ricevente che la elabora e poi la manda al nostro flight controller quindi in questo caso di una ricevente con diversità standard una delle due antenne diciamo viene spenta quando il suo segnale è più basso e un'altra viene accesa prendiamo solamente da una antenna ma esiste anche un livello superiore come questo ovvero la vera diversità dove abbiamo la ricevente che riceve lo stesso segnale su entrambe le antenne elabora tutte e due e fa un mix dei dati e dato per dato sceglie la priorità quale passare al nostro flight controller generalmente con ELRS e le riceventi con diversità reale come questa qui è quasi impossibile andare in failsafe ma c'è una possibilità se c'è un disturbo casualmente che vada a disturbare proprio quelle frequenze particolari che sta utilizzando la ricevente e la trasmittente ecco potremmo avere anche un problema è qui che arriva il nuovo sistema Gemini della ELRS dove ha lo stesso funzionamento della vera diversità quindi sono due antenne che sono collegate come se fossero collegate a due riceventi integrate all'interno di questa ricevente solo che queste due riceventi al contrario della diversità reale funzioneranno su due frequenze differenti la comunità ELRS ha deciso che lo span quindi la differenza tra una frequenza e l'altra sulla 2,4 gigahertz sarà di 40 megahertz mentre sulla frequenza 868 o 900 megahertz sarà di 10 megahertz quindi installando le nostre antenne in modo corretto avremo sempre la stessa polarità ma non solo riceveremo gli stessi ordini dalla nostra radio sulle due antenne contemporaneamente ma con due frequenze differenti questa si chiama modalità Gemini e funziona solamente se hai anche una trasmittente Gemini non come questa qui che ho sul tavolo le riceventi Gemini possono però essere anche impostate in modalità antenna singola se non hai una trasmittente Gemini che sarà per esempio il mio caso che monterò questa ricevente su questo elicottero e la userò in modalità singola non Gemini perché non ho ancora il modulo Gemini quali sono i vantaggi delle riceventi e trasmittenti Gemini? il vantaggio principale è l'interferenza perché se abbiamo una interferenza un jammer su una frequenza abbiamo l'altra ovviamente se utilizziamo le antenne correttamente ovviamente avremo una polarizzazione perfetta e una ricezione massima in qualunque posizione nella quale si trova il nostro modello generalmente se utilizzi una potenza dinamica sulla tua radio ogni tanto riceverai un avviso di segnale basso RSSI basso e questo proprio quando il tuo velivolo cambia la sua posizione ecco in questo caso non lo riceverai anche perché la telemetria verrà rimandata indietro con una potenza massima di 100 mW da un'antenna e un altro 100 mW dall'altra antenna su due frequenze differenti naturalmente potrai anche direzionare le antenne sulla trasmittente così da avere costantemente tutte e due le antenne perpendicolari alle due antenne della ricevente ovviamente adesso io qua non ho il modulo ma te l'ho fatto vedere solamente per fartelo vedere quindi il vantaggio principale delle riceventi trasmittenti Gemini è la qualità del segnale e l'affidabilità anche in caso di interferenze ed è il sistema più affidabile anche per la ricezione della telemetria eventualmente se la telemetria è importante nel tuo progetto ripeto l'ultimo vantaggio del quale ho parlato prima di questa ricevente particolare è il fatto che accetta fino a 12 volt di alimentazione qui abbiamo la classica porta UART con RXTX e alimentazione positivo e negativo qua ti scrivono 5 volt in realtà ripeto accetta fino a 12 qui abbiamo altre due UART con RXTX che attualmente non avendo nessun manuale di istruzione neanche sul sito della Radio Master non so a cosa possano servire ho chiesto direttamente a Radio Master e mi hanno risposto che avranno un utilizzo futuro quindi non mi hanno detto a cosa servono spero che questo video ti sia stato utile in tal caso clicca mi piace se hai delle domande lasciale giù nello spazio e commenti nel frattempo ti saluto e ciao alla prossima